Se siete arrivati fin qua vi consiglio di fare un altro passo e di arrivare fino in libreria. Le librerie, peraltro, aumentano il numero, quelle che con una collaborazione anche generosa ospitano alternative per il socialismo. Questa rivista è un po' strana, un po' singolare, che però è arrivata al suo sedicesimo numero e appunto è adesso nelle librerie. Cosa trovate? Beh, insomma, trovate un po' lo sviluppo del ragionamento del numero precedente. Se avete perso andate a ricercare il numero 15, quello del Cavaliere Nero, che raccontava come il capitalismo del nostro tempo, specie qui in Europa, è di nuovo guidato da un grande padrone, nel momento in cui l'attacco è all'attacco a fondo, a ciò che resta del modello sociale europeo. Questo numero sono le controspitte, ciò che si sta animando contro questo azzeramento dei diritti, della civiltà, del lavoro e non solo del lavoro. E quindi in primo luogo troverete un ragionamento, una ricerca, un'elaborazione sulla coalizione del lavoro che bestia è questa coalizione del lavoro, è l'insieme, le relazioni tra tutto ciò che si muove dentro le persone che lavorano, che lavorano con il lavoro salariato, del lavoro industriale, del lavoro pubblico, del lavoro autonomo, delle mille imprese, in tutte queste forme della precarietà soprattutto. E come c'è una controspinta rispetto alla messa in discussione del diritto di sciopero e di tutti gli elementi fondamentali che produce movimento. In Italia è prossimo lo sciopero generale, ma lo sciopero generale è apparso un po' in tutto il continente. E lo sciopero generale, per usare un termine di movimenti, è generalizzato. Cosa vuol dire? Vuol dire che tanti movimenti, che non sono quelli del lavoro, anche loro si puntano i piedi. E sono la costruzione di un discorso sui beni comuni, sull'acqua pubblica che abbiamo indagato. E la riflessione su come le donne sono state protagoniste di una occupazione delle piazze, che dibattito interno le anime per la loro prosecuzione. E l'indagine di tanti altri movimenti che rompono sulla scena, compreso oggi la difficoltà della costruzione di un'opposizione alla guerra che si è riaffacciata qui nel Mediterraneo. Mediterraneo, se volete ascoltare le cento voci del Mediterraneo, provate a leggere questo numero della rivista, cento voci, perché il numero della rivista ha un focus proprio sulla rivolte, sulle rivolte del Nord Africa. Ne sono indagate da tutti i punti di vista, con delle conoscenze che è raro trovare, dalla indagine di cosa muove nell'assetto geopolitico di quei territori che cambiano radicalmente e cosa propongono il cambiamento sull'Europa e sul Mediterraneo, quale sono le soggettività che emergono queste nuove generazioni che lottano perché, come, con quali orizzonti. E poi quali sono le preesistenze, da dove viene questa cultura, chi sono gli interiori che l'hanno animata. E poi ancora, come viene guardata una vicenda come questa da un punto di vista come quello palestinese. E poi ancora, questi movimenti, questi movimenti che sono senza partito e senza leader, cosa propongono alla nuova politica? Parlano solo del leader, del Nord Africa, dei paesi arabi, delle culture islamiche o parlano di noi, di di questa Europa. Ancora questa Europa, allora, viene rindagata da questo nuovo punto di vista e così viene studiata questa Italia dove c'è tanta infelicità, ma anche viene contemporaneamente studiata tutta questa nuova cultura di movimenti che si sta producendo, la ricerca dei nessi, dei collegamenti che devono correre tra l'uno e l'altro. Insomma, la politica, la politica che oggi sembra orfana dei partiti, lo è, dell'opposizione di sinistra, lo è, ma non sta forse rinascendo nei movimenti come politicità dei movimenti stessi, per le cose che hanno dentro per questo desiderio e possibilità di riacciuffare il cambiamento e non è allora la stagione di costruire questo nuovo legame tra i movimenti che ponga il problema della potenza politica in Europa per dare la risposta alle tante domande che stanno affiorando.